Sono poche settimane che è entrata Delia durante il GF VIP. Le dinamiche precedenti al suo arrivo nella casa hanno messo in allerta i geffini, che sospettano su di lei per via delle continue litigate con Alex Belli. Ad accusare l'entrata della donna più di tutti è stata ovviamente Soleil che ha avuto un crollo emotivo dopo alcuni giorni. Anche gli altri geffini sembrano però non credere troppo al comportamento amichevole della donna, già inquadrata come una stratega proprio come il suo compagno, ex geffino Alex Belli. Vedendosi girare le spalle da molti concorrenti, Delia nelle ultime ore ha pensato bene di attuare la sua strategia su Baru. Secondo i telespettatori, la donna stava palesemente cercando di flirtare con il cuoco dal sangue blu, sperando in un cedimento di quest'ultimo in modo da riuscire a creare la love story. Si sa, un flirt avrebbe mandato avanti le dinamiche Alex Soleil Delia e avrebbe dato spazio ad una rivincita alla donna, sentitasi presa in giro. Baru a quanto pare ha anticipato la mossa della Duran, dandole buca con molta classe. Vediamo allora nello specifico le dichiarazioni del concorrente. Dopo un colloquio di 20 minuti tra Delia e Baru, la geffina ha iniziato ad approfondire la conoscenza, chiedendo al coinquilino cosa facesse nella vita. Non faccio nulla nella vita, mi sento come una meba a chiosato, facendole capire di volersene andare. Delia che sperava di fare una love story con Baru. Ma lui, non minimamente interessato a fare i teatrini, oltre che ad essere annoiato e schifato da questa donna. Commenta un utente su Twitter.